Io ho fatto un presto di 10.000 euro con Fineco, ok? Non ci credete? Ce l'ho sull'applicazione di Fineco, lo posso far vedere. 10.000 euro con Fineco e 5.000 euro? Me l'ha prestato di merito, 15.000 euro per te partire. Ragazzi, è un'attività preditoriale. Sto giocando. Non dico che dovete partire con 15.000 euro, ragazzi. Ma ancora, non si modificano pari e pesci. Non si cammina sulle acque. Ok? Chi vi dice queste cose, vi prende per il culo. Vi prende in giro. Ci sono altri formatori, non solo in questo ambito qui. Me la minimizzano. Oh, con 100 euro fai tutto. Ma non è vero. Siete fortunati oggi con quei publishing che dovete spendere molto di meno. Non spendete 15.000 euro per il momento. Per il momento. I furbi stanno entrando ora perché siamo in fase di lancio, siamo agli inizi e stiamo dando un'offerta pazzesca, indicibile, veramente indegna. Io le sento, ragazzi. Sento i feedback che arrivano dai clienti. C'è gente che dice, ragazzi, questo è pazzi. Cioè, vi sto facendo una rapina. Per tutti. Vi diamo libri, e non dico mai, vi diamo libri illimitati. Non solo libri, copertine, descrizioni, titoli, sottotitoli, lavoro. È illimitato fino all'aggiungimento dell'obiettivo. Illimitato. Ma vi è chiaro questo? Illimitato. Andate da Pippo Pluto, Paperino e tutti gli altri. Oltre 3-4.000 e 5.000 euro di percorso, perché quelli sono i costi, perché se no non ci stanno dentro, con le loro strutture, vi dovete fare tutti i materiali da soli, signori, e costano tra libro, copertina, descrizione. Vi parte un millino solo per la produzione dei materiali di Salvatore Piazzolla. Senti a me. Te lo dice uno che lo sa. Vi parte un millino, mille euro, solo per la produzione dei materiali. Poi c'è il lancio e poi c'è un lealzo. Con WePublishing non dovete spendere più niente fino al lancio. Quanto serve ovviamente per lanciare un libro? Dipende dal mercato. 100, 120, 150 euro. Circa. Ok? È una cazzata. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma veramente stiamo dicendo che sono tanti 150 euro per lanciare un libro? E il libro, ragazzi, lo lanciate una volta, eh? Poi eventualmente rimpinguate qualche recensione dopo quando incominci a vendere. Quindi state reinvestendo parte dei guadagni. Cioè, ma lanciare un prodotto con 150 euro, ragazzi, ma è ridicolo. Ma è un business, non è un gioco. Poi, se voi volete camminare sulle acque, moltiplicare, no? Mettere questa bottiglia araba qui, no? Emiratina, dire da una la faccio diventare due col pensiero, siete liberissimi di fare tutto quello che volete. Però, concordate, come dice giustamente, Salvatore. Ma non è tanto, ragazzi. È lanciare un libro. E poi c'è l'Amazonazzo, ovvio. Costi gestione. Volete dirmi che mi pagano la benzina per andare a lavorare? No. Ok? Un ristoratore quando accende le luci del negozio paga la corrente, quello è normale. Sono costi gestione. Ma per fortuna per noi non sono solo costi gestione, anzi, sono più un investimento perché sono un moltiplicatore per le royalties che andrete a generare. Se seguite le mie indicazioni, indicazioni che vi do all'interno del corso, che seguite come linee guida, ma poi c'è anche il coach che vi segue come si impostano le ads, come si fa tutto il resto, eccetera, eccetera. Ragazzi, è, il publishing è, è stato, sarà, perché proveranno ad imitarci, ma non ce la faranno. è l'elemento che ha resettato completamente sicuramente tutto l'ambito del publishing. Oh bro, check, she does, check in the English group, please. Ok? So, for the English people, I will share the English Facebook group. You can join there. Ok? Ok? Ok. condividiamo con gli amici che parlano inglese. Lo scriviamo. Ok? Bene. Ragazzi, perché abbiamo anche, anche il gruppo in inglese. Stiamo addistrando anche le masse in English speaking. Ok? Questo, signori, molto semplice. Purtroppo è la sacrosanta verità. Fare da soli ci vuole una forte motivazione, indubbiamente. tutti quelli che fanno da soli la prima domanda che io faccio è hai questo forte perché? Sì? No?